Ieri un episodio che ha visto finire una donna di 38 anni in ospedale con ustioni di secondo grado in tutto il corpo. Oggi un incendio. I due fatti che hanno riguardato entrambi l'area ex lebole al momento non sono collegati. L'incendio domato subito dai vigili del fuoco è accaduto intorno all'ora di pranzo e ha riguardato le sterpaglie che ormai da anni invadono l'ex area industriale. L'episodio della 38enne racconta invece di quanto questo luogo sia ormai diventato rifugio di chi vive ai margini della società. Questa mattina c'è stato anche un sopralluogo della polizia municipale di Arezzo al momento. Non ci sono novità. Le recinzioni sono ancora divelte in diversi punti. L'area che oltre 30 anni fa ospitava la storica fabbrica Tessile Lebole è di proprietà dell'imprenditore pistoiese Marco Carrara ed è stato al centro di un vivace scambio a mezzo stampa tra il sindaco di Arezzo e l'imprenditore. Il primo aveva sostenuto in consiglio comunale che ci fossero novità possibili investitori per la realizzazione di un centro commerciale e direzionale. Carrara aveva invece prontamente smentito parlando di promesse non mantenute e progetti che sono stati fatti naufragare in questi 22 anni di storia che a quanto pare è ben lontana ancora da una soluzione.